Vecchio e rimbambito è l'epiteto che è stato indirizzato dal professor Bassetti all'indirizzo del collega premio Nobel professor Luc Montagné. Questo è oggi lo stato dell'arte medica. Per tale ragione ho ricevuto mandato ed ho depositato la querela del professor Montagné nei confronti di Matteo Bassetti ed eventualmente altri in concorso per diffamazione aggravata.